Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di venerdì un campo di alta pressione di natura azzorriana tenderà a imporsi con più decisione verso il nostro paese e nel frattempo il ciclone mediterraneo che ha colpito soprattutto la Sicilia si allontanerà verso sud e pertanto avremo un miglioramento su gran parte del sud Italia. Vediamo quindi la mappa della nuvolosità che ci mostra come ancora le regioni meridionali siano interessate da una frequente nuvolosità specie la Sicilia ma con la tendenza verso un miglioramento mentre al centro nord il sole continuerà a dominare. Uno sguardo anche allo zoom delle precipitazioni che vede ancora una situazione di maltempo anche intenso nelle primissime ore del giorno sulla Sicilia orientale ma con attenuazione dei fenomeni poi con l'andare della giornata. Quindi uno sguardo al tempo che farà sul nostro paese nella giornata di venerdì avremo sole protagonista ancora una volta al centro nord con clima che però resta sempre freddo di notte al mattino ma valori termici in ripresa nelle ore centrali del giorno mentre all'estremo sud in particolare sulla Sicilia sud orientale continuerà a maltempo con piogge nevicate ancora a quote di alta collina ma comunque una tendenza a un'attenuazione dei fenomeni entro la fine del giorno. Per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo.